mentre resta calda la pista per arrivare a Zagadou che è un giocatore svincolato che quindi può ancora arrivare alla Roma per completare un po' l'organico per quanto riguarda il pacchetto difensivo abbiamo sentito che la Roma intende anche insistere sulla pista Solbakken il giocatore che col Bodo Klimta fece due grandi partite contro la Roma che potrebbe arrivare quindi a gennaio perché la trattativa è in piedi Murigno fino a questo momento è stato impeccabile nella gestione di questo gruppo a mio parere a pallo di quest'anno ma potrei anche parlare dell'anno precedente almeno per quanto riguarda il girone di ritorno ora però deve affrontare una fase complicata perché sono tante le partite ci sono trasferte da affrontare la Roma gioca il 4 settembre a Udine ma poi c'è il debutto in Europa League l'8 settembre alle 18.45 nel girone della Roma giocheranno quel giorno anche Helsinki contro Real Betis il Ludo Goretz è una squadra bulgara la squadra di una città di 54.000 abitanti che si chiama Radgrad che si trova nella parte nord orientale della Bulgaria e sicuramente nella nostra Europa League di quest'anno partire con un risultato negativo a Radgrad sarebbe un po' complicarci la vita sarebbe importante partire col piede giusto ed è per questo che Murigno sembra che stia pensando per quanto riguarda la partita dell'Udinese di gestire Di Bala magari lo farò uscire prima quindi io mi immagino un Belotti che a un certo punto subentra per far rifiatare un po' anche Di Bala perché la frequenza con cui si gioca purtroppo è una frequenza importante oggi girava il video di Zaniolo che cantava Grazie Roma con Venditti che ha ancora il suo tutore alla spalla perché l'infortunio alla spalla sono fastidiosi per riprendere la condizione perché io penso che Zaniolo potrebbe tornare per Roma-Atalanta però bisognerà vedere in quali condizioni perché chiaramente avendo anche un fisico molto importante molto possente l'inattività è qualcosa che a un atleta del genere non fa mai bene quindi certamente non sarà uno Zaniolo a tempo pieno certamente non sarà uno Zaniolo al 100% è un vero peccato perché Zaniolo tra l'altro aveva presto 7 kg durante quest'estate per acquistare maggiore agilità e ci era riuscito appariva veramente in grande condizione per quanto riguarda la situazione Roma vorrei dire che comincio a capire che io dicevo sempre nei video ma mi volete spiegare perché la Roma non può staccano a segno da 30-40 milioni di euro e prendere un forte centrale difensivo visto che quando è stato il momento di comprare Ebram questo è stato fatto ma lo stesso Shomuro dove è un giocatore che è costato abbastanza adesso finalmente si comincia a capire perché perché la Roma praticamente è stata penalizzata dalla UEFA per non avere rispettato i famosi parametri del fair pay finanziario eccetera eccetera quindi Roma e Inter i 26.000 sono stati sanzionati la Roma ha negoziato quindi una multa di 35 milioni di euro solo 5 dei quali saranno trattenuti dagli introiti derivanti dall'Europa League quindi multa di 35 milioni di euro ma soprattutto limitazioni per 4 anni fino al 2027 con un monitoraggio semestrale quindi diciamo che il punto è che il rapporto tra costi e ricavi secondo le regole che sono state appunto anche scritte da lo stesso Dan Fritkin deve scendere al 70% nel calcio moderno ci sono tutte quante queste queste regole per rendere le cose dovrebbero essere un po' più equilibrate ma io non è che me ce trovo tanto forse per ragioni di età però le regole vanno rispettate quindi va bene così ecco perché forse tante volte la Roma non si è potuta spingere oltre che uno dice ma perché come la domanda che mi facevo io probabilmente poi la spiegazione nasce da questi vincoli europei della UEFA Udinese-Roma Udinese-Roma la prima cosa che io vorrei dire quando leggo la formazione dell'Udinese mi viene sempre spontaneo la formazione dell'Udinese 3-5-2 con Silvestri in porta ma è l'unico italiano Becao, Bijol, Masina Pereira, Lovric, Wallace Machengo, Udoge De Lofeu, Beto quindi 3-5-2 difesa a tre Becao, Bijol, Masina le due punte sono De Lofeu e Beto che sono giocatori temibili e questo centrocampo da destra a sinistra Pereira, Lovric, Wallace Machengo e Udoge che è un giovane molto interessante e che volevo dire che a me mi sembrano scioglilingue a questa squadra tutte le volte non lo so qualche italiano in più non sarebbe male io sinceramente capisco la politica di voler prendere questi ragazzini molto giovani di portarli su c'è un'interferenza miciosa vedete ogni tanto arrivano delle interferenze come su Dazzonna arriva un'interferenza ecco sei sentito chiamato in causa perché sei un extracomunitario proprio tu che hai fatto? allora io dico a me mi sta tutto bene però qualche italiano in squadra tutto sommato diventa pure un elemento insomma di maggiore interesse perché cioè il problema è che questi ragazzi non si sa manco cioè fai fatica anche a capire a ricordarti di che nazionali sono da dove sono arrivati da dove sono usciti da quali che percorsano fa cioè devi andare su Wikipedia veramente tutte le volte era più bello secondo me quando tu seguivi un giocatore fin dalla primavera come appunto nel caso che è successo con Totti De Rossi Lorenzo Pellegrini questi giocatori qua Zaleschi ce ne sono stati tanti e sapevi un po' tutto di loro sapevi anche che scuola avevano fatto e dove andavano a Pomicià con la fidanzatina quando c'erano 15 anni era bello perché il calciatore era veramente diventava il patrimonio di una città e non non si capisce sembra supermercato sembra che va al supermercato mi diceva mi serve un terzino mi serve un portiere il secondo portiere ma deve essere già pronto bello bello stagionato bello capito io non mi ci trovo penso ripeto ancora l'ho detto tante volte che un limite agli stranieri sarebbe una grande sarebbe un grande modo di mo te ne lo mette giù però perché sennò qua mi disdicono l'abbonamento sarebbe un grande modo di di lavorare un po' meglio su questo calcio italiano che se se qualifica mai mondiali o se non supera manco il primo turno ce sarà motivo perché noi non superiamo un primo turno mondiale vi vorrei ricordare dal 2006 eh raga non è 2010 poi al primo turno 2014 poi al primo turno 2018 non qualificati 2022 non qualificati 2026 non si sa come andrà a finire ma se non si prende mai qualche decisione la situazione sarà sempre questa ragazzi quindi io non mi ci trovo la Roma a Udine ha vinto 54 volte su 96 gare disputate con 24 pareggi 22 KO le quote di Betfair del Bookmakers Betfair sono abbastanza significative circa l'equilibrio grande equilibrio che sarà in campo al Friuli al Dacia Arena mi pare che si chiama adesso di Udine perché è 4 la vittoria dell'Udinese 3 il pareggio e 1,90 la vittoria della Roma quindi molto equilibrante perché 1,90 è una quota alta per una vittoria in trassetta da parte di una squadra che comunque è prima in classifica non ce lo dimentichiamo quindi nello stesso tempo però non credono assolutamente in un risultato positivo dell'Udinese mi mettono l'1,4 il pareggio a 3 e quindi è una partita che secondo il Bookmakers è molto complicata a me invece mi sembra più diciamo alla nostra portata e quindi penso che l'1,90 sia una quota un po' troppo alta io credo che 1,70 sia più che sufficiente la Roma quindi vi dicevo se mi consentono di andare avanti avrà poi l'Europa League alla quale teniamo quest'anno particolarmente perché abbiamo una squadra che come ho già detto è molto forte secondo me per un'Europa League l'8 settembre abbiamo Ludogorez Roma il 15 settembre Roma Helsinki e poi abbiamo il 6 ottobre Roma Betis alle ore 21 poi abbiamo il 13 ottobre il Real Betis Roma quadra guidata da Pellegrini e poi abbiamo il 27 ottobre la trasfetta finlandese a Helsinki che sulla carta sarebbe una martiria facile ma come ha detto Mourinho questo terreno di gioco è molto insidioso l'ha definito un terreno di plastica in più si giocherà appunto in inverno in sostanza quindi vedrà a vedere che clima troveremo il 27 ottobre perché magari si giocherà parliamo di chiaro sotto una bella nevicata a quel punto là le distanze tecniche potrebbero anche ridursi il 3 novembre finisce il girone il 3 novembre con Roma Ludo Gorez sempre all'ora 21 l'ultima partita del girone delle altre due squadre Real Betis Helsinki io ci tengo tante all'Europa League quest'anno ve lo dico subito la metto proprio nel mirino e la seguirò con grande attenzione perché penso che potrebbe essere il grande obiettivo della nostra stagione allora oggi cominciano anche le partite della quinta di serie A che sono interessantissime Fiorentina Juventus Milan Inter Lazio Napoli rispettivamente alle ore 15 18 20 45 quindi partite dalle quali la Roma ha tanto da guadagnare soprattutto se ci dovessero essere dei pareggi per esempio un Milan Inter X per noi sarebbe oro vinciamo a Udine guadagniamo altri due punti su entrambe sarebbe la giornata questo turno ragazzi potrebbe regalarci veramente delle grandi soddisfazioni anche perché la Juventus a Firenze troverà un campo che gli è tradizionalmente ostile la Fiorentina farà di tutto come sempre quando gioca contro la Juventus per rendergli la vita difficile potrebbe perdere altri punti anche la Juve Lazio Napoli è una partita dalla quale qualcuno uscirà con le ossa rotte ragazzi vedremo vedremo chi ma anche da questa partita possiamo avere grandi vantaggi domani poi c'è il seguito della quinta Cremonese Sassuolo Spezia Bologna Verona Sampdoria e poi chiude Udinese Roma alle 20.45 che andrà su Dazzon e poi lunedì Mondo Atalanta Salernitana Empoli e Torino Lecce che chiude la giornata certamente l'Atalanta contro il Torino mi ha impressionato perché tre gol un palo una traversa camorosi tante occasioni da gol il Torino non è una squadra debole quindi sembra che l'Atalanta tra Ocoli e Lockman potrebbe avere trovato qualche giocatore buono vediamo un po' e potrebbe rimanere in testa anche l'Atalanta quindi a noi ora come ora ci interessa quello che succede oggi pomeriggio poi domani sera ci concentreremo su Dinesi e Roma Fiorentina Juve Milani Inter Lazio Napoli che partita sarà Udine la partita di Udine è una partita molto tattica l'Udinese ha giocatori insidiosi De Lofeu Beto sono giocatori da non sottovalutare anche questo Udodge di cui vi parlavo sono anche rompipalle sui calci d'angolo sulle palle inattive perché hanno dei buoni saltatori che anche come Becao per esempio anche dalla difesa che salgono dalla difesa vanno marcati bene con grande attenzione non bisogna avere fretta questa è una partita che si vince 1-0 ragazzi è una partita che si può chiudere magari nel finale trovare anche il secondo gol quando l'Udinese si spingerà in avanti per cercare di pareggiare però attenzione a non andare sotto perché se andiamo sotto si complica molto questa partita io penso che la difesa della Roma abbia tutto per non andare sotto contro l'Udinese però abbiamo visto anche a Torino con la Juventus che non è che dipende solo da te se uno ha il primo minuto è vero che Spinazzolo ha perso un pallone sanguinoso però se un giocatore avversario ti ha una punizione in quella maniera poi non è che ti puoi rimproverare di non aver difeso bene ci sono anche gli avversari che in qualsiasi momento possono anche estrarre dal loro cilindro magico qualche giocata anche magari fortunata per cui noi io l'impostazione tattica che direi che darei a questa partita è inculcare ai nostri giocatori il concetto che noi siamo più forti dell'Udinese lo dice la Cassifica lo dice le prestazioni degli ultimi anni lo dice il nome dei giocatori lo dice il fatto che la Roma l'anno scorso ha vinto una Coppa Europea e l'Udinese ha lottato sostanzialmente per salvarsi quindi c'è un gap questo gap in campo va fatto pesare la squadra delle due che si è rinforzata rispetto all'anno scorso è chiaramente la Roma quindi se noi faremo la partita che dobbiamo fare che possiamo fare belli concentrati e attenti avremo probabilmente Celic a destra e Zaleski a sinistra viste le condizioni non ottimali in questo periodo di Cardop e Spinazzola ma è una squadra che dovrebbe essere più che sufficiente per fare il risultato utile quindi se noi scenderemo un campo con la testa giusta l'assetto tattico è quello giusto perché faremo il nostro gioco molto difensivo per ripartire poi con le nostre scorribande e cercare di innescare le due perle che abbiamo in attacco Ebram e Dybala quindi sono due giocatori che dovrebbero almeno mettere in grandissime ambasce la difesa bianconera speriamo quindi che tutto proceda nel verso giusto però attenzione vi ripeto il mio monito non prendiamo gol perché se andiamo sotto questa partita qui diventa molto brutta perché loro sapete che in velocità di rimessa sono molto bravi negli spacci rompono veramente le scatole soprattutto De Lofeo è un giocatore che è molto bravo a ribaltare l'azione perché è anche veloce ha anche una buona tecnica non bisogna metterli nella condizione di poterci fare male di mettere la partita sul binario che vogliono loro dobbiamo tenere questa partita sul nostro binario e in questo modo torneremo a Roma con altri tre punti e saremo ancora qui in classifica